buongiorno a tutti e bentornati sul canale come vedete siamo nella stanza della cnc e del laser che è l'angolino e tipicamente quando partiamo da questa stanza è perché facciamo un bellissimo unboxing come vedete qui è tutto pieno di pacchettini e pacchettoni e andremo a vedere quello che mi sono regalato per il compleanno ho preso tanti baracchini e alcuni ultimi acquisti che nei prossimi giorni andrò a provare a testare per poi metterli in mezzo al mio arsenale del fai da te ma bando alle ciance e cominciamo con l'apertura la prima apertura non è un'apertura perché quando mi è arrivato il pacchettino ero un attimo lì in fremito volevo vedere quello che avevo acquistato e vi mostro quello che mi sono regalato mi sono regalato questo meraviglioso truschino della veritas che vi faccio vedere qui dalla telecamera laterale è quello famoso classico non so se dall'alto si vede meglio poi mi direte voi era tanto che lo volevo prendere non perché ne abbia effettivamente bisogno nel senso che per quello che faccio io essendo robista non è che sto fare cose super precise eccetera eccetera però nel dover fare alcuni tenoni e mortase per fare delle antine mi sono trovato lì con la squadretta a metterla sul lato quello corto del listello per andare a tracciare un casino e con questo qua probabilmente farò decisamente prima non c'era bisogno di acquistarlo della veritas potevo anche autocostruirmelo ma diciamo che è una coccola e già che c'ero di coccole me ne sono fatto un'altra perché della stessa marca ho acquistato anche la mk2 guida per affidatura degli scalpelli anche in questo caso non che io utilizzi molto gli scalpelli però è veramente un oggetto che mi è sempre piaciuto lo vidi tanto tempo fa in un video di stefano il falegname insomma mi piaceva e quindi anche questo lo abbiamo portato a casa entrambi i prodotti li ho presi sul sito di pagin utensili che come ricorderete ha sponsorizzato il video dell'aspiratore per polveri offrendoci un bellissimo codice coupon con sconto del 5 per cento elfa make che è tuttora valido tant'è che io questi li ho acquistati con lo sconto del 5 per cento perché una volta fatto il carrello arrivata a check out prima del pagamento ho messo il codicino e tutto si è scontato del 5 per cento quindi grazie ancora a pagina utensili per aver tenuto ancora attivo il nostro codice apriamo il pacchettino e qui dentro c'è una bellissima confezione di bosti fax fix no fast fix 2 che devo provare a utilizzare per incollare della plastica plastica plexiglass eccetera insomma sto sperimentando il taglio del plexiglass e di conseguenza sto sperimentando l'incollaggio del plexiglass ma questo lo mettiamo da parte e questo lo mettiamo nel rusco altro pacchettino mini mi ricordo tante cose ma non tutto perché il mio compleanno è stato più di due settimane fa non più due settimane fa dieci giorni fa e quindi prendiamo che ha i beccucci non so se si vedono meglio da qui sono beccucci fatti appositamente per quella colla che abbiamo appena visto quindi beccucci di ricambio perché ogni volta che la usate poi il beccuccio si intasa e altri continuiamo con un altro pacchettozzo e abbiamo due potenziometri che mi serviranno in un progetto prossimo ma non finisce qui trasformatorino da 12 volt questo va sempre con i potenziometri prima spina anche questa va con quelli due interruttori sempre per lo stesso progetto e qui abbiamo dei boccettini per la colla che ho acquistato per potermi creare delle miscele di colla e acqua per rendere insomma liquida come serve a me quando vado a incollarmi le scatoline fatte al laser perché ci sono tutti i dentellini da andare a incollare e se ci passa la colla dopo viene uno sbrodolamento che non vi sto neanche raccontare e quindi anche questi li accantoniamo ma ora veniamo a questo pacchettino questo è un regalo che mi ha fatto l'assistente siccome ogni tanto mi diretto anche con la resina e mi deletterò sempre più con la resina ha detto prenditi una bella mascherina così ti eviti i vapore della resina e questa è una mascherina a tenuta di gas mascherina intendo copertura per gli occhi e poi avrò anche la mascherina quella filtrante per i vapori perché se no ci copriamo gli occhi e ci inaliamo tutte quelle schifze altro pacchettino o altra cosa scelta dall'assistente perché sa che insomma mi ci sto dilettando nel tempo libero quando non faccio video quando non lavoro eccetera i risultati devono ancora venire e ne portate pazienza un bellissimo cofanetto della bevercraft con il simpatico castoro sopra andiamo ad aprirlo oh la la attenzione e li coliamo tutto qua un contenitore in pelle una specie di astuccio con cintura e fibbia andiamo ad aprire e voilà cos'è questa ah la coramella penso ci chiami comunque la pelle con il materiale abrasivo da andare ad utilizzare per poi riaffilare i coltelli cioè ridare il filo ai coltelli più che set di tre coltelli uno due tre con chiaramente tre lame diverse questo che è molto grande serve chiaramente per la sgrossatura questo è un pochino più fine quindi andiamo più sul dettaglio e questo non mi ricordo ha una forma particolare adesso dovrò comunque di nuovo studiare le dispense ma adesso facciamo pulizia e continuiamo chiaramente di tutti questi oggettini e compreso il link al sito di pagina utensili trovate tutto qua sotto in descrizione dallo stesso pacchetto andiamo a estrarre ulteriore materiale e qui troviamo progetti da 20 minuti e con la scultura del legno libro molto interessante ci sono tanti animaletti mi ricorda un po il nonno di haidi quando faceva gli animaletti a non mi ricordo qual era l'altro personaggio visto che sono un neofita qui magari è spiegato passo passo ed evito di fare castronerie passiamo al pacchettone alì altri pacchetti nello specifico 1 2 3 4 e 5 allora questa è ormai la conoscono tutti è la famosissima levigatrice della devalt è la d w e 64 23 famosa nel mondo di lobbisti perché ha un ottimo rapporto qualità prezzo per la qualità che ha questa macchina perché è una di quelle se non quella che ha l'escursione di vibrazione minore e quindi può essere utilizzata anche per lunghi periodi non che io stia a levigare per ore ore però può capitare anche di levigare per 40 minuti mezz'oretta e insomma più proteggiamo il nostro corpo durante i nostri hobby da vibrazioni fumi tutto quello che è visto che non lo facciamo per professione è meglio è e di conseguenza è nato questo acquisto quindi nei prossimi video proverò anche questa bellissima macchinetta prima dovrò andare con la stampante 3d a rifarmi l'attacco che va messo qua per attaccare poi l'aspirazione direttamente alla macchina così non devo attaccare quel sacchettino lì che non mi sono mai piaciuti questo è un altro lavorino che voglio prendere perché molto spesso io non bordo tutte le tavole compagnia bella con il bordino quello termico perché dopo mi scoccio a mettermi lì col cutter a sfilare per ogni tanto me parte il cutter faccio dei disastri quindi ho voluto provare a comprare questo set di rifilatori cioè quello per rifilare le teste e quello per rifilare lungo la costa per vedere se mi viene voglia più spesso di fare dei lavori fatti un pochino benino è un set che si fa pagare però speriamo valga quello che costa e anche di tutta questa roba qua link in descrizione altro strumento che è più da falegname che da obbista però come sempre noi obbisti poi non ci accontentiamo mai vogliamo sempre qualcosa di più ne ho approfittato con il compleanno per comprarmi questo oggettino della star andiamo a togliere il nastro eccola qua eh te lo dico allora questa è la famosa squadra corta della star si fa pagare però è molto 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 precisa se non tra le più precise di conseguenza può venire comoda sia per fare le righe tutto quello che volete ma non penso sarà quello l'uso che ne farò io perché per la falegnameria che faccio io per hobby non ce n'è problema ma siccome molto spesso bisogna tarrare le macchine verificare che le lami siano 90 gradi piuttosto che a 45 gradi visto che c'è anche questo e tutto quanto ho deciso di prendere questo strumento di misura per avere almeno un punto di riferimento per quello che riguarda gli angoli di settaggio delle macchine quindi la utilizzerò sia per mettere a 90 gradi la lama della sega circolare sia per quanto riguarda la troncatrice e poi chiaramente ogni tanto per fare dei controlli qualche righina magari ce la tiriamo anche ma non vi prometto niente penso che si lo ammetto la metterò in una cornice e non la utilizzerò mai ma andiamo oltre questo pacchetto dice cleverly amazon apriamo ah e qui c'è un'altra maschera della 3m con i filtri filtri studiati per tutto da polveri e soluzioni solventi tutto quello schifo che ci può venire nei laboratori sia quando si usa macchinari per il legno quindi polveri sottili sia per quando si vernicia sia per quando si utilizzano le resine nello specifico l'assistente ha voluto che io comprassi assolutamente un'altra mascherina solo ed esclusivamente per resina e basta perché per la vernicia ci sono già un'altra e quindi ha comprato un'altra mascherina il set di filtri e vabbè questo qua è il filtro da polvere che si monta sopra a questi filtri qua questi vanno sopra alla cartuccia filtrante e dentro ci vanno questi due bagaglini qua che quindi trattengono subito le prime polveri quello che ci interessava a noi in questo caso però erano queste due cartucce perché è una mascherina che metterò dentro un armadietto la terrò chiusa lì e la utilizzerò soltanto quando andrò a utilizzare o prodotti con dei solventi o resine possidiche piuttosto che con le bicomponenti che hanno comunque degli odori nocivi e tutto questo cosino qua e siamo all'ultimo dei pacchettini che sono queste due videocamere di sorveglianza ma qui non vi sto a dire oltre trovate comunque il link qua sotto se volete andarvi a studiare perché ci farò un video apposito perché secondo me potrebbe essere una cosa molto interessante per tutti perdonate un attimo ma non ho aperto i due oggettini della verità sono da aprire guardiamoli un attimo andiamo ad aprire il truschino attenzione che il disco taglia come una lama perché è una lama ma quanto è bello voglio dire eh guardate che bella base di appoggio è chiaramente tagliato la sua rotellina per andare a regolarlo adesso me lo dovrò anche studiare questa qua dietro non ho la ben che minima idea di cosa sia vediamo svitiamo svitiamo ancora e io continuo a svitare signori eh no incredibile non lo sapevo questa è la regolazione di massima e quindi si può far muovere la rotella più avanti e più indietro una volta fissata la rotella con questa ghiera qua dietro una volta allentata possiamo andare guardate spero che si veda bene a spostare guardate la rotella si avvicina all'asta o si allontana dall'asta e una volta trovata la posizione corretta andiamo a fissare e così sta bella ferma bellissima veramente un gioiellino ora provo a rimettere tutto dentro e andiamo a aprire la guida di affilatura degli scalpelli come si apre qua istruzioni in italiano non ci crede nessuno eh attenzione ho in guida vabbè almeno c'è in inglese qualcosina potrò provare a capire qui c'è quella che dovrebbe essere questo ma vabbè a me piacciono ste cose sarà sarà un feticista degli utensili e questa è la scala di riscontro da impostare per andare a fare la filatura degli scalpelli con un determinato angolo a seconda di quanto teniamo lunga la lama l'angolo viene di x gradi come potete vedere qui ci sono tutte le misurazioni 25 piuttosto che 20 e tutti quanti i vari gradi andiamo a riporla e qua sotto c'è la signorina bella impacchettata guarda che gioiellino bella 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 e poi ragazzi ma pesa una svalangata tutto acciaio massiccio questo è un bellissimo rullo che in confronto a quelle economiche che normalmente hanno due cuscinetti a sfera fiancati piuttosto che tre qua c'è un rullo lungo come tutta la superficie quindi siamo sicuri che non si può inclinare in questo modo e una volta trovata la posizione giusta andremo a fare avanti e indietro fino a quando non abbiamo portato via la parte che ci serve dal bisello del nostro amico scalpello e per farlo chiaramente servono le pietre quelle per affilare e se siete veramente dei fanatici o comunque siete dei super pro ci sono anche quelle fatte in diamante ma costano l'ira di dio ogni singola pietra io ho comprato quelle classiche ve le avevo fatte vedere in un video precedente in un altro unboxing devo ancora metterle all'opera perché intanto sto utilizzando un paio di pietrazze che avevo preso al lobby le ho bagnate ho fatto i primi esperimenti e devo dire che da scalpello così comprato da battaglia ad affilato alla bene meglio come ho fatto io con la mia guidina economica classica la differenza si vede quindi spero di poter recuperare tutti gli scappelli che ho di là nonostante siano della lux tool per poterci almeno fare qualcosina quelle poche volte che mi servono aperta anche questa direi che abbiamo aperto tutto sono più che soddisfatto dei regali che mi sono fatto e che mi ha fatto l'assistente in realtà manca un'altra cosa che non è ancora arrivata per motivi di tempo ma quella la vedremo insieme in un futuro video perché comunque dovrò utilizzarla per un ulteriore progetto che è nella testa io vi ringrazio se siete arrivati fino a questo punto del video se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale lasciate un bel like se il video vi è piaciuto ogni tanto mi piace condividere con voi gli acquisti che faccio perché poi alla fine ci si vede in laboratorio dove l'hai preso quando l'hai preso da dove è spuntato io sono curioso quindi immagino che anche voi siate curiosi vi do appuntamento nei prossimi video per vedere all'opera alcuni di questi articoli a presto signori ci vediamo nei prossimi video a presto